La domanda è veramente solo legata a quando finirà. Io ho visto Biden togliere la mascherina, abbiamo visto il Papa e Draghi, già vaccinati, stringersi la mano, che ormai è diventato un gesto assolutamente non usuale, invece speriamo di tornare ad abbracciarci presto e a comunicarci anche fisicamente le cose. Che succede? Nel senso che c'è un po' la paura dei liberi tutti adesso, Sileri, anche Figliuolo che richiama a non fare propaganda regione per regione. Sì, ha detto occupatevi della vaccinazione, non vi fate... Esatto, residente in Lombardia, devo dire Giovanni che dopo aver parlato della Lombardia dicendo ma come era il modello di sanità assoluta e ancora siamo in ritardo, ci sono stati 3-4 mesi di ritardo, gravissimi, devo dire che adesso si va speditissimi, si sta cercando di recuperare con un passo che mi sembra di riconoscere nella regione in cui mi ero trasferita. Sileri, se ci vuoi dire la prossima regione dove vai a abitare ci dai anche una notizia per interposta persona, però ragionaci. Prego, Sileri. Quando finirà... A Roma ho sempre una casa, Giovanni. Quando finirà è difficile poter...